ha giustato quello qua la scena è fatta ma non ho provato questo è pieno questo pallacano la macchina è passata, è proprio a casa, è proprio a casa, ha fatto proprio apposta, che le le date, non so se si sposti. Ma non lo so, non lo so, non lo so. Ma non lo so, non lo so. Sì, non lo so. Ma non lo so, non lo so, non lo so. Ma non lo so. che mi stava a fare questi soldi? mi amico eh eh ma si fa un lavoro con un cucchiaio stai a fare la nonna la soglia vuoi aspettare le porte e le soldi? eh ecco oh ma ora se ne è corto non mi ha ah ma se ne è giù da cò non se ne è giù da lì ma ora mi ha fatto giù da lì ma ora se ne è giù da lì ma ora se ne è giù? eh